Ciao ragazzi, benvenuti in questo nuovo video, io sono Aleferrante25 e oggi siamo in un nuovo video, siamo su Gears of War 3, sulla Xbox 360, tra l'altro ieri abbiamo fatto anche un piccolo live, un piccolo, un'ora e mezza durato, su questo gioco, anche su altri, abbiamo fatto Gears of War 3, abbiamo fatto Gears of War 3, FIFA 15 e poi un altro, mi sembra Minecraft, non mi ricordo se era Minecraft, comunque non mi ricordo quantità hanno seguito, però a me mi aveva divertito sto gioco, perché a me piace tanto questo gioco, Gears of War 3, è un gioco di guerra, è una specie Mercy, è una specie Deathmatch a squadra, è una specie Call of Duty, una specie Call of Duty, come si chiama, che pizza, abbiamo le locuste di merda, è una specie di, non dico, oh, è uno sparatutto, non è un tipo Call of Duty, ma è diverso, Allora, ho cambiato per la posizione della, quello morirà, subito, ho cambiato per la posizione webcam, no, sei nascosto, devi morire, vai, mori, nasconde furbo, 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 mamma, ammazzi tu, oh, 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 ho quello che mi curi, ho quello che mi curi, ho quello che mi curi, ammazzatevi, ammazzatevi, desideri di qua casa, Oh, 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 oh me la faccio il webcam con l'ex box stranamente guarda questo qua pensai di passare mori devi morire no 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 oh mamma mia c'erano le armi del democro e c'è l'armi più forte delle mie cavolo ammazzate ho fatto un abbattimento un abbattimento 8000 morti comunque dettagli reggiorazione fra 2 e 1 allora andiamo a prendere quel quasar la odio quello che sembra un bot subito non un bot bug oh no 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 si deve trasportare mori mori mi avvicina bam dolce vendetta condizione splendente dov'è 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 oh non lo vedo più non c'è più morta faremo anche altri video di questo gioco oh venitevi a faremo anche altri video di questo gioco comunque altri live su xbox perchè a me divertono un sacco di dare su xbox da solo come ho fatto dal risonamento di game capture hdv rock su game capture hd pro perchè ammazzati ammazzati sono un giocatore di merda lo so esperto lo sono in questo gioco ancora non sono tanto esperto quando mi rigeneri no mi si può più rigenerare vedere merdi visuale da combattimento io perchè non riesco più a a forse perchè c'è un tutta l'ucidione non lo so comunque sta di fatto che io in questo gioco guarda lì la guarda lì la più 46 ma che io ma io sono duecento per davanti quindi quando mi scambiamo tutte le mie storie delle storie ok siamo eliminati tutti ok i kog hanno vinto la quantità cioè hanno perso tanti che da oscar infatti diciamo nel luogo netto però vabbè vita mondana oh livello 16, livello 17, livello 18, livello 18, livello 18, livello 18, mio dio come stiamo livellando come di permerde livello 19 basta così dolce vendetta judgment supporto animale da festa di 30 mila ammazzati facciamo un'altra partita perchè questa è stata proprio improponibile prossima partita trarà 4 secondi di cui aspettate ragazzi devo vedere una cosa quanto siamo? quanto siamo di video? quanto siamo? quanto siamo? 5 minuti sì dai un'altra partita facciamo un tempo a farla sicuro sicuro stiamo portando il telecomando non per il tariffo di Jay ma per perchè sono in dv io quindi cose strane sta succedendo speriamo che la telecamera va a com'è? alla velocità del roxy perchè il roxy ci mette un po' tipo adesso io sono in partita quando lo sto parlando sono in partita invece se guardo la game capture sono a sono indietro molto indietro un secondo in cui comincio la partita sì finalmente il mio preferito ricordo protezione post generazione praticamente prima la partita è stata segnata dai 26 morti mamma mia mamma mia mamma mia mi morire male che mi... oh no no via maledetto maledetto ora mi subito fuori da nulla dimmi che ci sei dimmi che ci sei dimmi che ci sei non è qua un bofumogina la lanciamo anche noi dove sono tutti? dove sono tutti? due stutti? non ho ucciso nessuno dai che è andata apparentemente mamma mia mi unico io non vedo nessuno comunque ecco ecco lì là dietro i merdoni guarda che ti ho visto la merdoni vieni qui fuori oh grazie oh mio dio ma come si bucchi fuori what the... what the... are you serious? ma dico fuck you i serious ok ogni squadra che io ogni squadra che io fa schifo perchè fa schifo mamma mia che merda che sono oggi prima di questo video dopo un po comunque mmm dopo uscirà forse le sentivo sempre tre 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 nascondi chi c'è chi c'è chi c'è non c'è nessuno non c'è nessuno ma quant'è nessuno ma quant'è nessuno tanto adesso che com'è oh chi è che è passato? no no non ci siamo non ci siamo non ci siamo devi morire mamma mia va bene ho capito ho fatto una morte gloriosa mi uccidendo uno sono morto io quindi va bene ragazzi lo so c'ho ancora a scantire camera un po' non ho messo a fuoco non capisco eccolo la cazzo oddio non ci facciamo beccare amico non ci facciamo beccare no no non ci penso due volte oddio chi è che mi sta uccidendo? i gnoti? i soliti gnoti oddio oddio però che hanno quei fogli? vieni vai muori 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 no a che lutto vai posso ancora ah vai è la mia ultima vita raga non stai nemmeno neanche abbastanza male siamo terzi vai corri corri ci sono rimasti solo in quegli altri l'uccisione della vittoria sarà la mia ovviamente oh ne mancava uno dov'è? 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 adesso tanto muoio io sono un bambazzo e 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 non per me non mi ha fatto oggi a caso guarda come mori guarda come mori guarda come muoio io guarda come muoio io se no sto molto attento se no sto si si vai 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 si no che sono un po' più intelligente sono un po' più intelligente amico vieni qua vieni qua ecco via oh mio dio che schifata eeeh non era quello che mi aspettavo buc siamo rimasti solo in tre tre contro sette ce la possiamo fare non è vero morito se muoio faccio i miei amici no 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 io non muoio no io non hai caduto niente cino di merda sei rimasti in giù ssh silenzio silenzio no dovevi morire aia 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 la gamma aia la gamma non era finita eccola che ho mosso la telecamera aia basta basta farmi male inutili venti oh oh no 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 c'è il mio vaso no 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 non mi viene it market 50 avvattimento 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 chi c'era la vita chi c'era lo dito no 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 design quasar che solo muore perchè prima era contro di me che a parte che è l'unico con il microfono comunque un good partita 417 punti aveva fatto aspettate altre partite ha battuto me una mano di unida e online ok assistenza più 18 stiamo facendo passi da merdoni ma comunque qui non conta tante uccisioni e abbattimenti ma c'è conta tanti punti comunque è fatta cazzo questo però vabbè dettaglio mi rimane solo uno ok questo qua non c'ha colpi non c'è scritto i colpi vabbè dettaglio 4 contro 1 magari vince ok vince vai shishushi oh però devi sciderlo beh devi sciderlo sennò io sclero sennò dopo io ti sparo io ti sparo anche se sei neanche cosa sta facendo questo tattiche c'è sei circondato amico dietro di te ho visto qualche che arma ha questo che arma ha questo are you fucking serious are you fucking serious dove l'hai trovata c'è trovate nel cessione spazzatura probabile probabile la spazzatura l'hai trovata no l'arrabiazione morto ero questo e l'hanno vinto ok che ti sei battuto bene ma non basta raga vabbè abbiamo abbastanza giocato bene terzo ultimo in tutto e niente se prossimo round un altro round aspettate vi metto in pausa devo andare a vedere a quanto siamo se no chiudo qua tanto chi se ne frega hanno vinto le rose niente se vi è piaciuto mi piace mettete il bello che è la pagina quindi non dovremmo essere sotto la descrizione per oggi è tutto bella